Ogni vita umana è l'opera d'arte più sublime che esista. Da oggi, Fernanda Wittgenz, la Pinacoteca di Brera è nelle sue mani. Il ritratto di una donna straordinaria e coraggiosa. Voglio aiutarvi a raggiungere il confine. Ma voi così rischiate la vita? Io non vi lascio qui. Al servizio dell'arte. E secondo voi lasciamo che i tedeschi rubino i nostri tesori? Devono passare sul mio cadavere. E della libertà. Noi fingiamo di trasportare quadri, e invece? La Rai racconta la memoria del nostro paese. Io lo so che non posso salvare tutti, ma posso salvarne molti. In prima visione, Fernanda. Questa sera alle 21.25. Rai 1.